Ogni volta che si parla della caccia alle streghe o dei processi alle streghe, molti di noi affermano che, quasi tutti, quelli che vennero uccisi dalla Chiesa perché streghe o stregoni erano innocenti. Ma perché non diciamo tutti? La caccia alle streghe era un pretesto utilizzato da persone influenti, persone maligne, vicini invidiosi o consorti gelosi per liberarsi di persone scomode. All'epoca bastava l'accusa di due persone facili da trovare o da pagare per far iniziare un processo che finiva quasi sempre con la condanna di un innocente. Ma allora perché non affermiamo che tutti erano innocenti? Crediamo ancora che la stregoneria esista? Alcuni diranno di sì, che la magia nera influisce ancora oggi su luoghi e persone. Altri saranno più scettici, ma sospettano comunque che ci sia qualcosa di sconosciuto e misterioso che avvolge le nostre vite. Ma per questo caso non possiamo dare un giudizio così leggero. Questa storia si svolge oltre 350 anni fa, quindi è possibile che la storia sia stata modificata, distorta o manipolata nel corso dei secoli. Ma così come viene raccontata nei libri oggi, ci fa riflettere e ci fa dubitare almeno un po'. Secondo gli archivi storici, la vicenda ebbe inizio nel 1661 a Yogal, una città portuale nella contea di Cork, in Irlanda. In quel periodo, la popolazione era già duramente oppressa dalla chiesa, colpita da epidemie che facevano numerose vittime, afflitta da carestie e spaventata dagli invasori. È facile immaginare come anche il minimo evento anomalo potesse scatenare isteria di massa. La mattina di Natale di quell'anno, una vecchia mendicante si presentò alla porta di John Pine, un ricco uomo d'affari, chiedendo un pezzo di pane. L'anziana donna era conosciuta da tutti come Florence Newton e, a differenza di Pine, viveva in grande povertà da molto tempo. Ad aprire la porta di casa fu Mary Longdon, la cameriera dei Pine, una donna burbera e risoluta che cacciò in malo modo la mendicante per riprendere le pulizie di casa. Qualche giorno dopo, Mary andò al pozzo a lavare i panni del suo padrone e li incontrò di nuovo Florence, che come al solito chiedeva un po' di cibo per le strade. Mentre Mary lavava i panni, Florence si avvicinò a lei, la baciò sulla guancia e le disse con un sorriso che non mangiava da molto tempo, ma che non serbava rancore e desiderava che Mary fosse sua amica. Ancora una volta, Mary Longdon, vedendo che le altre lavandaie la guardavano con disgusto, si allontanò da Florence con un gesto brusco. L'anziana la fissò con rabbia e se ne andò, mormorando parole incomprensibili. La storia avrebbe potuto terminare lì, se non fosse stato per il fatto che quel bacio rubato iniziò ad avere effetti strani su Mary. Il giorno successivo, quando la donna si svegliò, ebbe una scoperta scioccante, durante il processo alle streghe, dichiarò di aver aperto gli occhi e vedere un vecchio vestito di seta rossa, che identificò come il maligno, e accanto a lui una donna coperta da un velo bianco, che disse essere Goodie Newton, con Mare Newton. Mary si sentì paralizzata, impossibilitata a muoversi, e il vecchio, sorridendo, le disse che se avesse seguito i suoi consigli le avrebbe dato tutto ciò che desiderava. Ma Mary rifiutò, dicendo di mettere la sua fede in Dio, e le due figure sparirono nel nulla, lasciandola libera di muoversi nuovamente, un evento storico che coinvolse una donna chiamata Florence Newton e il suo presunto coinvolgimento nella stregoneria. Tutto ebbe inizio quando Florence ebbe un litigio con un'altra donna che reputava fastidiosa, noiosa e che aveva fatto fare una brutta figura a Florence di fronte ai suoi amici. In quel periodo, un modo efficace per liberarsi di una persona scomoda era accusarla di stregoneria. La storia prese una piega inaspettata ed allora i testimoni di quanto accaduto furono numerosi. I documenti scritti dell'epoca, ancora custoditi nel Museo Storico di Chinsale, riportano un resoconto dettagliato del processo a Florence Newton. Il tribunale, composto da diversi testimoni tra cui amici di Mary Longdon, medici, studiosi e persone dell'aristocrazia locale, raccolse testimonianze di strani fenomeni paranormali che si verificarono nella casa di Florence. Florence. Ci furono segnalazioni di poltergeist, episodi di levitazione e atti di violenza commessi da un'entità maligna contro di lei. Il primo evento di interesse si verificò proprio il giorno in cui Florence ebbe la visione delle due donne litigare. A metà mattinata, cominciò a vomitare spilli, chiodi, pezzi di lana e paglia. Un medico chiamato per visitarla la trovò in uno stato di delirio, con un segno viola simile ad un morso sulla guancia, proprio dove era stata baciata dalla donna con cui aveva litigato. Nei giorni successivi, mentre Florence era nei pressi di un pozzo per lavare i panni, fu colpita da pietre lanciate dal cielo e riportò lesioni alla testa, braccia e schiena. Per circa tre mesi, Florence fu aggredita da una forza invisibile di fronte agli occhi dei cittadini, che la strattonava e colpiva. A causa di queste continue aggressioni, Florence decise di rifugiarsi in una vecchia casa abbandonata nei pressi di un bosco, dove pensava di potersi nascondere facilmente in caso di pericolo. Gli anziani della comunità sigillarono le porte e sprangarono le finestre della casa di Florence per proteggerla dall'influsso maligno che sembrava la perseguitasse. La gente era convinta che gli eventi fossero imputabili a una strega e un gruppo di persone decise di dare la caccia a Florence per consegnarla alle autorità. In seguito, Mary Longdon fu testimone di una visione in cui Florence levitava fino al soffitto. Il prete ordinò quindi che venisse legata al letto e sottoposta a un rito di benedizione per proteggerla. Il 24 marzo 1661, Lord Mire, sindaco di Yougal, fece imprigionare Florence insieme ad altre due donne del luogo, Gudi Alfpegni e Gudi Dodd, in attesa del processo. La notizia si diffuse velocemente e si cominciò a parlare di congreghe di streghe, sabba nei boschi e riti malvagi al chiaro di luna. Il caso era così importante che il procuratore generale, Sir William Ashton, presiedette il processo. Prima di interrogare l'accusata, ascoltò numerose testimonianze di cittadini che avevano assistito alle sofferenze di Mary Longdon. Fuori dal palazzo di giustizia si riunì gran parte della cittadinanza, ognuno con le proprie opinioni sulla «strega» Florence. La prova più evidente del coinvolgimento di Florence nel caso era il viso sfigurato di Mary, con una guancia infettata e lacerata che mostrava la carne e l'interno della bocca. Tuttavia, per dimostrare che Florence e le altre due donne erano streghe, si decise di seguire i dettami dell'inquisizione, con teste e verifiche approfondite. Florence, temendo l'orribile prova dell'acqua che poteva causare la sua morte, si prese tutta la colpa e scagionò le altre due donne. Durante questa prova, l'accusato veniva legato e immerso nell'acqua di un lago per diversi minuti. Se affondava, veniva considerato innocente, se galleggiava, era colpevole. Florence confessò di essere l'unica strega di Yougal per evitare questa terribile prova. La prova decisiva fu l'incapacità di Florence di recitare correttamente il padre nostro. Durante il processo a Cork, le fu chiesto di recitare la preghiera e la donna tralasciò le parole, e rimetti a noi i nostri debiti. Questa mancanza convinse i giudici a farla incarcerare in attesa della sentenza di morte. Il carceriere provò a insegnare a Florence la preghiera corretta nella speranza che potesse invertire la condanna a morte. In segno di gratitudine, Florence gli baciò la mano. Pochi giorni dopo, l'uomo morì di polmonite, maledicendo Florence sul letto di morte, gli altri carcerieri riferirono di aver sentito rumori spettrali provenire dalla cella di Florence. Quando fu comunicata la condanna a morte, Florence confessò che il demonio l'aveva visitata sotto forma di levriero nella sua cella, forse cercando di spaventare i giudici e gli astanti. Ammise di aver gettato il malocchio su Mary Longdon, ma negò di essere una strega. I documenti storici non forniscono dettagli sulla conclusione del processo, ma è praticamente certo che Florence Newton sia stata giustiziata. Successivamente, Mary Longdon sembrò guarire dalla malattia che aveva sfigurato il suo viso e non fu più coinvolta in fenomeni strani.